Il Paradiso 7, Anticipazioni, Gloria sconvolta dopo confessione della donna che aveva salvato. Le nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che per Gloria arriverà il momento di fare i conti con il passato. La donna, dopo aver scelto di darsi una seconda chance dal punto di vista professionale insieme all'ex marito, si ritroverà costretta ad affrontare un fantasma del passato, legato a quel terribile caso che la mise seriamente nei guai con la giustizia. Le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Ezio riceverà una visita del tutto inaspettata. Tratta si dichiara, la donna che venne salvata da Gloria da quella gravidanza complicata che rischiava di comprometterle la vita. Gloria, per salvare la vita a questa donna, la fece abortire, un reato penale per l'Italia degli anni 50. Gloria venne accusata di praticare aborti, motivo per il quale fu costretta a darsi alla fuga per evitare di finire in carcere. Solo a distanza di anni, Gloria scelse di pagare il suo conto con la giustizia. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che la donna riapparirà nella vita dei Colombo e lo farà per svelare un segreto. Chiara chiederà a Ezio di poter avere un confronto con Gloria, in un primo momento la reazione del padre di Stefania non sarà delle migliori. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore rivelano che Ezio preferirà non dire nulla a Gloria. Ma in seguito a un confronto con Vittorio si renderà conto che non può tenerla all'oscuro di quello che sta succedendo. Di conseguenza Ezio confesserà a Gloria della visita di Chiara e della richiesta di poter avere un confronto con lei. La donna accetterà e durante l'incontro con Chiara farà una scoperta clamorosa. Gli spoiler delle nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 rivelano che la mamma di Stefania resterà sconvolta di fronte a una verità che fino a questo momento non aveva mai saputo. Un segreto che verrà confessato da Chiara per la prima volta inizialmente Gloria preferirà non dire nulla a Ezio. Successivamente, però, Gloria ed Ezio si ritroveranno ad affrontare un nuovo viaggio di lavoro insieme, sarà questa la circostanza in cui la donna deciderà di confessare tutta la verità all'uomo e non si esclude che tra i due possa riaccendersi di nuovo la fiamma della passione. Dopo il feeling speciale ritrovato nell'ultimo periodo. Grazie. Grazie. La scuola scenica. Grazie a tutti.